Mi chiamo Cristina Ditta e The Wedding Care è una struttura attiva su tutto il territorio nazionale che ho creato con il desiderio di prendermi cura del vostro giorno più bello, passo dopo passo dall'ideazione all'organizzazione. Il matrimonio di cui parleremo oggi è stato celebrato a Roma, con rito religioso, nella chiesa dei Santi Luca e Martina, a cui fa da cornice la magnificenza dei fori imperiali. Già dalla scelta della chiesa si intuisce la personalità degli sposi, una giovanissima coppia di architetti attenti a coniugare uno stile classico ed elegante con la freschezza e la creatività che li caratterizza. Ho tradotto così i loro desideri in un allestimento che non fosse invasivo rispetto alla chiesa di per sé preziosa, ma che allo stesso tempo risultasse curato nei minimi dettagli. Filo conduttore è stata dunque una scelta cromatica che includeva una gamma di bianchi e di verdi in diverse sfumature. Così la chiesa è fiorita in una sinfonia di peonie, tulipani, lisiantus e rose vendela bianche che si mischiavano alle noti verdi dei santini e delle ortenzie, a richiamare i colori preferiti dalla coppia. Su ogni sedia il tocco creativo è stato dato dal libretto che si apriva a ventaglio e dal sacchettino trasparente per il riso, entrambi logati con le iniziali degli sposi e sigillati con nastro grograin di seta. La cerimonia è stata accompagnata da un duo non convenzionale di arpa e clarinetto che ha eseguito brani di musica sacra. Il ricevimento si è svolto nel parco di una residenza d'epoca sita nella campagna romana. Gli sposi sono arrivati a bordo di una 500 degli anni 60 decorata con un banner bianco ton sur ton fatto realizzare apposta per loro da un designer newyorkese. Mi sono divertita ad andare alla ricerca di pezzi d'antiquariato scovati ad uno ad uno nei mercatini della capitale. Ho scelto delle cornici, diverse nella forma e nella dimensione, che ho utilizzato per arredare il giardino, facendoli diventare tablò, segnaposto ed elementi d'arredo. L'apparecchiatura classica, fatta di cristalli, argenti e porcellane, dei tre tavoli imperiali come pure di quello degli sposi, si vestiva delle trasparenze del vetro, dei bianchi e dei verdi dei fiori, così come il cadeau de mariage, il tutto pensato nel rispetto della scelta di stile adottata. Con a cuore la perfetta riuscita della giornata di festa, ho ideato in giardino degli angoli in cui i partecipanti e sposi potessero rilassarsi, divertirsi nel fotocorner e affidare i più piccini alle cure e l'intrattenimento degli animatori. La poesia e il romanticismo ha ispirato anche la scelta dell'abito noziale. La nostra sposa ha infatti scelto un abito neuromantico tagliato a vivo, il cui prezioso tessuto crea contrasti di volumi, sottolineando la figura in maniera armoniosa. Nello stesso mood anche il bouquet di peonia e mughetto. Ciò che maggiormente mi ha ispirata nel mio lavoro è stata l'alchimia, la complicità che animava gli sposi e che ha contribuito a realizzare il loro giorno perfetto in maniera unica ed indimenticabile.